Noi ho fatto un minuto per un'altra domanda, per due minuti ho fatto un numero di cose che ha fatto che ha fatto un'altra domanda. Se lo faccio esatto più in vista è un'altra domanda, per mi portare in contestazione, per me non compro dire nessuna domanda, ma non ci circondiamo per fare. Ah, io ho proprio visto che c'è una differenza di funzioni, ma poi ho visto che lo faccio esistirà in straordinarci a noi, che non c'è il conoscimento di Isaac. Sì, è stato il governo, la oficina di governo di San Nicolás, è stato coordinatore del ministro e del presidente e del gabinete, è stato tramitato di papi all'estrangeri, non è stato un mistero o un particolare di persone. Si è stato coordinatore del gabinete, non è vero? Non è vero e ciò che è stato tramitato di papi all'estrangeri, non è vero? È vero per cercare di persone con questo dato, non è vero? Che ho sapato? Un po' 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 di riscaldamento.